bentornati divine e divine sul mio canale oggi ci occupiamo della rubrica lui lei in relazione a se vi ricordate se non l'avete ancora fatto ovviamente vabbè sono stese che sono state fatte tempo fa ma avevamo già diciamo in un certo senso trattato l'argomento SOS caramici quindi andiamo a vedere questo si tratta sia di relazioni karmiche che di anime gemelle sia di fiamme gemelle ovviamente valido per tutti quindi rubrica lui lei senza particolari riferimenti le fiamme gemelle ma per quanto riguarda invece le relazioni karmiche quindi chi è in relazione karmica diciamo che situazione c'è se state bene ovviamente nessun problema ma le energie magari di quelli che sono un po in crisi vediamo un po dove dove stanno portando questa stessa cosa anime gemelle ovviamente hanno meno karma tra di loro però ovviamente ci sono anche altre situazioni magari di altri legami prima di appunto arrivare a un'unione ovviamente per le fiamme gemelle la situazione con i karmici è qualcosa di importante per quanto riguarda molte delle delle connessioni appunto di fiamma che sono bloccate proprio perché ci sono situazioni con altre persone e ovviamente sono persone karmiche quindi andiamo a vedere che cosa ci dicono i nostri angeli relativamente a queste SOS karmici a che punto siamo dove dove andiamo a finire come sempre vi invito a mettere mi piace al mio video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto chi vuole contribuire e sostenere il canale può trovare per una libera donazione l'indirizzo paypal qua in descrizione chi vuole approfondire la sua situazione quindi privatamente e miratamente alla sua personale situazione può appunto trovare la mia mail per contattarmi sempre nella box informazioni lì sotto nella descrizione e quindi andiamo subito a chiedere ai nostri angeli che ci parlino delle situazioni karmiche cosa sta accadendo con i karmici in questo momento per chi appunto ha un amore che è ancora diciamo bloccato nel situazioni karmiche oppure noi stessi a volte siamo bloccati in situazioni karmiche quindi andiamo a vedere che cosa sta accadendo in tutto questo e quindi sos karmici ogni tanto lo facciamo per aggiornare la situazione vedere un po perché effettivamente siamo proprio agli sguoccioli di situazioni di cambiamento quindi sguoccioli appunto non che sia una cosa imminente ma stiamo veramente andando verso proprio l'esaurimento del karma che durerà ancora un po di tempo però ovviamente non è che tutti finiscono nello stesso momento quindi ci potrebbero essere persone ed è già successo adesso ve la butto lì quante coppie stanno scoppiando anche lei gossip stanno venendo fuori delle situazioni appunto di sblocco di situazioni situazioni karmiche vengono portate a termine coppie che scoppiano e certo perché effettivamente c'è il karma che univa la lezione è stata imparata e quindi insomma ci si arriva diciamo alla separazione quindi andiamo a vedere ognuno con i suoi tempi poi come sempre vi invito a contattarmi privatamente per approfondire la vostra situazione quindi andare proprio nello specifico della vostra situazione karmica allora ok 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 a cano maggiore la porta tra i mondi e anche di questo trovate in descrizione il link perché è appassionato di fantasy è una storia fantasy di fiamme e prendiamo le energie degli oracoli astrologici vediamo un po' quali energie astrologiche oltre a quelle che sappiamo ovviamente importantissime di questo periodo oltretutto a fine luglio ci sarà la congiunzione tra nodo urano e marte quindi qua esplosioni ma lo vedremo 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 proprio nei particolari questa situazione in una stesa a parte e allora ok ok allora qua c'è un'armonia un'armonia qua importante che ecco sì sì allora c'è una situazione armonica che si sta quella che è sempre stata magari è sempre andata quelle relazioni che sono sempre sembrate profonde armoniche relazioni che sono sempre insomma state considerate durature forti eccetera stanno cominciando a mostrare delle discrepanze e delle discrepanze delle separazioni qua c'è il senso di molti stanno andando a concludere situazioni che sono durate a lungo che sono state considerate per tanto tempo amori magari veramente di quelli forti e idilliaci stanno appunto arrivando a separazione stanno mostrando appunto o stanno già esplodendo o stanno mostrando le prime i primi cedimenti e tanti stanno si stanno ricorrendo proprio a separazioni legali qua c'è proprio un modo di come dire queste queste unioni che magari sono durate anche vent'anni stanno stanno mostrando appunto quanto in realtà non c'è quest'unione questa sembrava era illusoria quanto invece ci sono separazioni e ci sono discrepanze tanti ovviamente questo mi sta confermando che stanno cambiando la loro situazione stanno portando cambiamenti anche legali nella loro storia quindi ci sono separazioni divorzi ci sono assolutamente sono energie energie attuali perché? perché c'è un richiamo più forte qua mi sta dicendo che tanti sono e lo sentono allora vediamo le varie situazioni chi è per esempio in una situazione di fiamma ci potrebbero essere separazioni e divorzi con i carmici perché c'è il richiamo al risveglio all'amore all'amore di fiamma all'amore animico quindi c'è il richiamo che è talmente forte che non può essere assolutamente ignorato chi invece non è in una situazione di fiamma comunque arriva a concludere situazioni carmiche anche appunto legalmente perché sente il richiamo verso qualcosa di più forte magari non ha ancora incontrato la sua anima gemella non ha ancora se è previsto che incontri la fiamma non l'ha ancora incontrato ma comunque sente che c'è un richiamo a qualcosa di più alto più forte e quindi c'è proprio il senso di andare a scoppiare queste situazioni che magari sono durate tanto tempo in armonia e poi invece sono arrivate al dunque proprio perché erano comunque relazioni carmiche io dico sempre le relazioni carmiche non è che siano brutte tante volte sono dolorose, sono delle prove, sono delle sfide incredibilmente dolorose ma tante invece sono semplicemente delle coppie che si incontrano per karma perché hanno delle lezioni da imparare l'uno dall'altro e poi ci si separa quindi non è che ci si odia o si soffre tutto il tempo ci sono anche unioni che per vent'anni sono andate bene ma poi alla fine sono finite quindi vengono fuori le discrepanze, vengono fuori le separazioni che portano a divorzi e a proprio separazioni legali proprio perché c'è qualche cosa che attira e si sa animicamente che è un richiamo è un richiamo, è un tuono che non si può ignorare quindi c'è un qualcosa di più che vogliamo e sentiamo di voler andare a creare quindi è una situazione che si sta diciamo diventando più forte e sempre più rapida qua ci sta dicendo il tempo quando esce questa carta è sempre un po' il senso di con i suoi tempi i tempi dell'anima ma comunque c'è un richiamo al tempo quindi stanno diventando sempre più frequenti proprio perché c'è questo passaggio diciamo vibrazionale che ci sta portando a voler cambiare quello che ormai non fa più non è più in risonanza con l'energia che magari abbiamo coltivato nel tempo quindi ci siamo anche evoluti animicamente quindi non c'è più proprio questo allineamento tra le due persone e quindi questa separazione si sta mostrando per alcuni oppure per qualcuno veramente sta già procedendo per vie legali quindi c'è proprio il senso di situazioni concrete e anche durate a lungo che stanno scoppiando perché il richiamo ha qualcosa, ha un risveglio, ha un qualcosa di animico se c'è già oppure lo si desidera è veramente come un tuono che non può essere ignorato qua c'è il senso di stanno, si stanno diciamo più susseguendo in maniera molto più rapida queste cose anche più frequenti proprio perché appunto c'è questo cambiamento vibrazionale che ovviamente essendo globale è portato proprio dall'individuo, l'individuale, importantissimo l'individuale e infatti ci sono tante risposte a tanti perché perché probabilmente questo disallineamento energetico che si crea all'interno delle coppie materializza dei dubbi dei dubbi che appunto vogliono essere risolti e si risolvono attraverso appunto il contatto con l'anima con un ascolto di un qualcosa, di un desiderio che è molto più profondo del contatto semplicemente fisico e quindi è un po' come si materializzassero delle risposte animiche che sono come appunto un richiamo e quindi portano proprio a far vedere in maniera più consapevole le discrepanze che ci sono all'interno della coppia e ecco qua c'è il senso di sono cose che magari sono state pensate da tempo sono state pensate da tempo quindi probabilmente appunto o c'è una persona che ha una fiamma io adesso parlo praticamente più specificatamente della fiamma se per caso qualcuno in una relazione karmica ha incontrato la sua fiamma ovviamente il pensiero della fiamma è un qualcosa che ha ovviamente interferito in questa situazione ha fatto capire quanto questo richiamo di fiamma fosse potente quindi c'è il bisogno appunto di andare ad equilibrare una situazione che non è più armonica quindi andare a sciogliere questa situazione oppure ci sono situazioni in cui magari si è in relazioni karmiche ma appunto non ci si trova più in allineamento e si desidera qualcosa di molto più animico qualcosa di molto più profondo che non sia semplicemente una relazione che già può essere molto molto bella molto appagante ma si sente il bisogno di qualcosa che va oltre quindi qualcosa di un risveglio cioè questa persona ovviamente non è solo maschile e femminile nel senso che anche invertite le due parti è un po' il senso di dire i tempi si stanno un po' velocizzando ci sono nuove domande che sorgono che possono essere solo risposte dall'anima e questa anima è un richiamo che non può essere ignorato quindi questi pensieri, il desiderio di qualcuno che sia più legato a noi animicamente oppure persone che già ci sono come le fiamme o anche altre persone che comunque ci danno il senso proprio di appagarci non solo fisicamente ma anche animicamente è un qualcosa che ormai è proprio diciamo irrinunciabile non se ne può fare a meno e quindi tutto questo sta portando proprio delle separazioni anche legali e c'è il richiamo all'anima c'è il richiamo a un innalzamento, un risveglio animico c'è qualche cosa che porta alla separazione e al divorzio proprio perché si sente di dover andare a un livello superiore anche nelle relazioni è un richiamo a un undici, undici risveglio anima fiamma gemella, situazione animica quindi c'è proprio il senso di sentire il desiderio di un qualcosa che vada oltre perché le vibrazioni anche del pianeta si stanno innalzando quindi quelli che sono in risonanza già hanno lavorato su di sé sanno che animicamente se si ascoltano non possono più accontentarsi di qualcosa che non risponde animicamente all'elevazione che desiderano e sentono di avere e quindi c'è l'ambizione, ambizione, c'è qualche cosa appunto che ci dice con l'anima ovviamente l'ego si mette al servizio dell'anima e ambisce a qualcosa che ormai è a un livello davvero di elevazione superiore quindi c'è proprio il senso di non mi accontento più non c'è più il senso di sono costretto a stare con questa persona perché sono cieco e incatenato dal karma no assolutamente stiamo uscendo da una situazione karmica le catene si stanno spezzando, gli occhi si stanno aprendo e ormai si vede che dove pensavamo ci fosse unione invece c'è separazione allora si procede proprio a mettere in atto appunto mettere in atto con azioni concrete e mirate quello che è il sentire quindi la separazione proprio a tutti i livelli e appunto per dare guarigione a una situazione di malattia probabilmente si si sente come se fossimo stati in una situazione di malattia di ferite, di dolore, di incatenamento e ora adesso dobbiamo agire per creare e portare nella nostra vita guarigione e si fa attraverso relazioni animiche di un livello superiore e appunto c'è proprio il senso di andare a creare un cambiamento con la forza della consapevolezza e della forza dell'azione di un ego asservito all'anima e quindi l'anima guida, ci sta guidando con tutti i suoi colori con tutte le sue energie di elevazione verso una guarigione, un qualcosa che corrisponde di più a quello che è davvero la consapevolezza una relazione consapevole non più in diciamo schiavo del karma e infatti si comincia qualcosa di nuovo c'è un nuovo inizio, c'è un qualcosa che porta alla trasformazione totale ci sono situazioni che terminano e si comincia qualcosa di nuovo quindi c'è davvero il senso di SOS così diciamo carmici non era mai stato così chiaro come adesso quindi ci sono proprio separazioni, divorzi perché c'è un qualcosa oltre che ci chiama e non ci si accontenta più delle maschere come era prima sembrava amore ma era karma e invece qua non ci sono più le maschere vogliamo il tesoro che sta sotto quindi siamo disposti a cambiare, trasformare totalmente la nostra vita pur di avere un amore che corrisponde a un vero tesoro e non più le maschere e quindi vogliamo un'unione che sia il tesoro e non più karma e infatti vogliamo l'amore ai livelli superiori quindi qua ci sarà l'unione con l'amore della propria vita che può essere una fiamma gemella, può essere un'anima gemella può essere anche un'anima karmica che però arriva per portarci a amore a livelli più superiori a quelli e che ci porta stabilità finalmente una stabilità, un equilibrio, un'unione che è finalmente solida duratura e che ci porta veramente dove dobbiamo essere qua c'è proprio il desiderio di andare nell'anima cioè dove dobbiamo essere è una situazione che ci porterà che sta mostrando una situazione generale proprio di andare oltre quindi si rompono delle catene le catene sono queste queste del karma con relazioni precedenti che non sono più utili all'elevazione animica e non sono più in allineamento con le nostre energie e quindi si rompono queste catene si spezza il karma e qua c'è il senso proprio di andare a unirsi a unirsi questo è il messaggero degli dei c'è la comprensione di queste situazioni di queste dinamiche e che mirano all'armonia e all'unione 15-15 gli amanti si cerca qualche cosa che corrisponda più al messaggero dell'anima quindi si ascolta di più l'anima si ascolta di più quello che è il desiderio di relazioni che vanno oltre e infatti qua siamo nella conclusione di appunto di questa prigionia c'è il senso di spezzare queste catene lo stiamo facendo adesso c'è proprio aver raggiunto il culmine di un ciclo io dico sempre 12 è anche proprio il senso della dodicesima casa della ruota astrologica quindi siamo alla fine di un ciclo si sta concludendo un ciclo e presto viene manifestato e guardate perché? perché si desidera l'amore ai livelli più alti qua c'è l'amore che vince l'amore vero perché quando io dico quando ci sono relazioni karmiche quello che pensavamo essere amore non era amore ma era karma l'amore è quello spirituale che si incarna quindi viene vissuto nella materia ma è un amore che ha origini proprio di unione animica quindi a livello spirituale altissimo e quindi questo amore porterà proprio alla conclusione di situazioni di prigionia e qua dice sì la sorellanza delle rose bellezza e devozione misticismo insegnamento proprio spiritualità ai livelli più alti sacerdotesse qua si desidera l'amore ai livelli più elevati l'amore ai livelli più elevati è un richiamo che non può essere più ignorato e quindi si spezzano le relazioni karmiche che non corrispondono più ai desideri della nostra anima e appunto c'è un po' il senso del femminile il prendersi cura qua c'è il senso del a volte certe situazioni che sono state portate avanti karmicamente con donne era perché in un certo senso erano come se fosse specchio della madre quindi un po' si cercava la madre non con lei che è proprio la donna incarnata quella vera a tutti i livelli tanti maschili per esempio cercano un femminile che sia un po' lo specchio della madre con i suoi difetti ovviamente magari anche terribili però sono incatenati in situazioni appunto di relazioni con donne che sono lo specchio della madre che li fanno soffrire terribilmente ma karmicamente sono legati in questo modo quindi tante situazioni di questo tipo si spezzeranno e però c'è anche un po' il senso di andare a in un lato dell'interpretazione oppure appunto di andare a cercare un femminile che sia comunque un qualcosa che ti dia il senso della cura e dell'amore incondizionato quindi è un po' più il senso di cercare qualche cosa che sia a tutti i livelli più alto e elevato non di sfruttamento ma di amore e cura però credo che sia più legato a questa è una carta delle vite passate quindi qua c'è un qualcuno che effettivamente spezzerà relazioni in cui il femminile è stato quello proprio del rispecchiare di rispecchiare la madre la madre quindi magari che l'ha fatto soffrire terribilmente è andato a cercarsi una donna che fosse karmicamente ovviamente in risonanza con la madre che gli ha fatto tribulare tutta la vita ma adesso queste cose vengono fuori si spezzano se invece siete donne siete appunto in un certo senso come se dovesse spezzare una dinamica anche familiare in cui ricalchiamo un pochino i difetti della nostra di nostra madre o i comportamenti della nostra madre sono energie che ci stanno tenendo appunto in scacco quindi adesso si spezza tutto e si va oltre qua c'è un amore che richiede di andare oltre e quindi in un certo senso c'è proprio il cambiare completamente paradigma e questo comprende appunto le separazioni e i divorzi allora andiamo a vedere che cosa ci dice per quanto riguarda ok il passato ormai dietro di te infatti rilascia e abbraccia le nuove possibilità uno nuovo diciamo cammino è adesso disponibile per te seguilo con fede quindi qua c'è davvero il senso di rilascio del passato si cancella tutto quello che è il passato karma si rompe tutto e si va verso le nuove possibilità che si vengono seguite con fede quindi con la fede contatto con l'anima qua abbiamo già capito che cosa sta accadendo nelle relazioni carmi che siamo a una svolta completa un abbraccio a tutti alla prossima stesa appuntamento un bacio a tutti